Va ora in onda Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in blu la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne Si è conclusa a Roma la seduta straordinaria della conferenza Stato-Regioni convocata per la conclusione del procedimento tecnico di riforma delle autorità portuali ad annunciare in tempo reale il sì del ministro del Rio all'emendamento presentato dalla regione Abruzzo per collocare i porti abruzzesi sotto l'autorità di Civitavecchia anziché di Ancona e il presidente D'Alfonso sul suo profilo Facebook La conferenza Stato-Regioni ha approvato un emendamento proposto dalla regione Abruzzo al decreto legislativo che contiene il piano strategico nazionale della portualità e della logistica Il testo aggiuntivo consente il trasferimento di un porto da un'autorità portuale all'altra d'intesa con la regione nel cui territorio assede l'autorità portuale di destinazione Un tesoro inestimabile è quello scoperto due giorni fa a largo delle coste tra Giulianova e Cologna a spiaggia all'altezza della foce del fiume Tordino dove un tempo pare ci fosse un antico porto costruito dai romani per gli approdi per piccoli scambi commerciali e per rifornire le legioni di stanza nei territori aprutini Su questi fondani, almeno di due miglia dalla costa, ad una profondità di appena nove metri giace un'imbarcazione che avrebbe all'incirca 300, forse 400 anni Sembra un galeone di quelli con grossi alberi maestosi che solcavano i mari caraibici agli inizi del XVIII secolo A fare la scoperta è stato Walter Squeo, segretario regionale di Federpesca Abruzzo e vicepresidente del COGEVO, il consorzio di gestione della Vongonare La soprintendenza dei beni ambientali, architettonici e storici d'Abruzzo ha reso noto il ritrovamento dei resti di un mammut femminile durante i lavori nel tunnel dei sottoservizi in piazza Duomo all'Aquila Lo scheletro, anche se molto rovinato, potrebbe essere ricomposto dagli archeologi ma la femmina di Elephas Meridionalis, fa sapere la Vittorini non potrà essere collocata vicino al suo compagno nelle stanze del castello cinquecentesco quilano La mammut sarà affidata alla soprintendenza di Chieti Da una prima stima dei ritrovamenti, la femmina doveva essere alta almeno 4 metri ed avere un peso di almeno 5 tonnellate Lo fa sapere il quotidiano aquilano, il capoluogo.it Ne parleremo durante la nostra rassegna stampa e non da oggi alle 10.45 160 impiegati delle province sono passati alla Regione lo hanno appreso dal bollettino ufficiale della Regione Abruzzo sul quale è stata pubblicata la delibera del 4 marzo scorso sull'effettuazione del primo travaso di personale pubblico nel processo di riforma degli enti provinciali Il personale dichiarato in sovrannumero da parte delle quattro province abruzzesi iscritto a novembre sul portale della mobilità e di complessive 553 unità così suddivise 107 in provincia di Chieti 226 all'Aquila 105 a Pescara e 118 a Teramo In questi numeri sono compresi anche i pensionati e coloro che stanno per andare in pensione e dovrebbero essere quindi fuori dal giro Rimangono 321 dipendenti interessati alla procedura di mobilità vera e propria No all'eliminazione della data di scadenza dall'olio d'oliva No all'eliminazione della qualità nelle produzioni italiane Sono queste le parole della Col di Retti Abruzzo su quanto previsto dal disegno di legge europea che prevede un termine minimo di conservazione dell'olio che non deve essere superiore ai 18 mesi Un disegno di legge del 2015 che rischia di modificare l'etichettatura degli oli di oliva abrogando le norme che prevedono la stampa con l'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva dando rilevanza cromatica rispetto allo sfondo alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita con l'effetto di attenuare i livelli di tutela nella commercializzazione dell'olio di oliva Se entrerà in vigore questa legge finiranno nel cestino le importanti professionalità della magistratura onoraria che a livello nazionale contribuisce a tenere in piedi del sistema della giustizia considerando che i giudici onorari sono 6.000 a fronte degli 8.000 togati In Abruzzo, tra GOT e WPO, sono a rischio più di 150 persone alle quali occorre aggiungere anche circa 100 giudici di pace Lo ha detto Federica Cavallo, portavoce nazionale del Movimento 6 Luglio sul disegno di legge appena approdato alla Camera che punta a riformare la magistratura onoraria E siamo alle previsioni del tempo non senza aver detto che domani, sabato 2 aprile nella Chiesa dei Gesuiti a Pescara la parrocchia di Cristo Re in via del Santuario ci sarà la notte della preghiera la Chiesa infatti resterà aperta fino a mezzanotte con l'animazione curata da due sorelle del Suore della Misericordia quindi ci sarà l'opportunità di vivere un'intensa esperienza di preghiera Siamo alle previsioni del tempo oggi su Pescara e Provincia si prevedono sulla costa cielo nuvoloso fino a metà mattino molto nuvoloso scusate, fino a metà pomeriggio molto nuvoloso nel tardo pomeriggio nuvoloso in serata con temperature da 14 a 22 gradi e 20 moderati e nelle zone interne cielo nuvoloso fino a metà mattino coperto fino a tutto il pomeriggio e da poco nuvoloso a nuvoloso in serata con temperature da 16 a 25 gradi e 20 deboli il mare è previsto poco mosso e la direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza in questo venerdì 1 aprile augurano buon anniversario di ordinazione sacerdotale a Padre Costante Baron e buon compleanno a Don Cleto Panaccio è tutto, grazie per averci seguito e risentirci Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti